Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi giocheremo a Sambole Guys Come vedete ho ben 173 corone 18.480 trofei E sto al grado 20 Allora guardiamo un po' lo shop C'è questa offerta che purtroppo Io ho 20 genne E vi faccio vedere il mio armadietto Allora questo è il mio armadietto Lo faccio con calma così vedete tutte le mie schien Comunque ragazzi Ricordatevi di iscrivervi Di iscrivervi e di lasciare like E le mie nove leggendarie Ormai anche super guy Queste sono le mie matt Non ho nessuna matt speciale Le mie animazioni E i passi sono questi Allora ragazzi Che noi dite andiamo a farci una partita in partita personalizzata Allora Allora Non ho nessuna partita personalizzata Così vi faccio vedere un po' Se sono bravo Poi vi faccio Poi vi faccio vedere come sono bravo Si fa abbastanza trick Icx Icx Allora Ok ragazzi Qualificati per primi Icx Per tempo aspettiamo Justin Fly Anzi no Ma perché solo queste due persone mi fa aspettare Vabbè Le F1 non si qualifica E nemmeno E nemmeno Vabbè Quello di prima Allora Ci siamo qualificati Fortunatamente Vediamo la prossima Tappa qual è Speriamo una facile Allora Per favore Uh Space Race Qua non sono proprio Gravissimo Però Qualcosa La so fare Ecco Siamo già secondi Cioè Forse saremo secondi No Ragazzi Fai la Qualcosa Il trick Cioè Quel trick Io lo so fare Però A volte Lo falo Ovviamente Ovviamente Dopo vi faccio vedere Come sono bravo Nelle mappe In cui sono Ovviamente So fare più trick Siamo primi Credo Sì Comunque ragazzi Scrivetemi Nei commenti Se volete La seconda parte Se volete Un altro video In cui gioco Sempre a Stumbleguys Oppure Un altro gioco Vabbè Qualificati Per secondi Nel frattempo Aspettiamo Il dinosauro Che sia qualificato Ok Vediamo Ok Sì Finale Superata Adesso C'è la finale Scriviamo Una Mappa Bella Uh Bombardament Questa Non è Proprio Facile Da Cioè È facile Da giocare Però È un po' Difficile Riuscire Ad averla Come Mappa Cioè Io Da tanto Tempo Che non Ci gioco Quindi Basta Che non Mi tirate I pugni Speriamo Di fare Una Vittoria No No Stanno Bombardando Qua Che Dio Scusate I messaggi Però Allora Raga Stavo per morire Scusate Bombardato Il centro Ora Abbiamo Ancora Ragazzi Stavo Per morire Non c'è Come Siamo Rimasti Ancora In tanti Allora È appena Morta Una Persona 3 7 Scusate Ragazzi Che fortuna No Non da me God Vediamo Vediamo che Non è Che c'è Nulla Ok Allora Sentirsi Sani E fare Letteralmente I salti Di gioia Con una Nutrizione Bilanciata E sana Ricevono I migliori Nutri Allora Vediamo Il pass Vabbè E Allora Vi faccio Vedere Come sa Giocare In Black Dash Anzi Metto Prima Mappa Metto Lava Dash Queste Sono Le tre Mappe In cui Sa giocare Meglio Queste Le tre Che ho messo Sono le mappe In cui Sa giocare Meglio Allora Crea Ok Iniziamo Allora Speriamo Di non Failare Niente Perché Se Filo Qualcosa Non so Che succede Raga Da quando C'è Lava Land Niente Comunque Non ho capito Perché hanno tolto Lava Land Cioè Non potevano Mettere Perché hanno tolto Lava Land Non capisco Nelle partite Personalizzato Quei Lato Allora Allora Sto Sto provando A fare Una cosa Ok Ok Speriamo Speriamo Noo il pompiere paura non ne ho sono morto raga non è possibile che sono morto ma dai raga sono state eliminate vabbè ripacciamo la partita così vi faccio vedere solo per far sbagliarlo se no in realtà l'ho fatta apposta allora allora raga iniziamo con l'avarash che ovviamente dovevo iniziare con l'avarash ti prego non filare niente ma google raga mi sentite io mi sono buggato qua ok adesso non so perché si è acceso google e mi ha detto che il microfono non è disponibile dopo ricontrollo ma dai raga sto fila come un riccio che è nato da 5 mila anni mi sono salvato non so come in realtà in realtà sono bravo anche su laser il treasure ok dai non filare niente sto andando bene che fortuna che fortuna raga ok qualificati ho usato i messaggi però adesso disattivo non distorsare ok ma ma vabbè ho vinto ragazzi ci vediamo al prossimo video e vi posso salutare ciao ciao